Allora, Hermes Battistini, direttore della Cooperativa Sociale La Formica. Hermes, ci troviamo alla fine di un'altra estate, un'altra estate impegnativa di quelle che in cooperativa ormai si fanno da 20 anni per portare avanti i servizi di raccolta differenziata e di igiene ambientale per la città di Rimini. Quest'estate come ti sembra che sia andata? Come sono andati i lavori che i ragazzi hanno portato avanti? Sì, come da ormai circa 15 anni la Cooperativa La Formica ha un grosso picco estivo riferito ai servizi alla città dove risiede, che è Rimini, dovuti al turismo che la città è investita per la stagione estiva. Come tutti gli anni ovviamente ci ha impegnato in una maniera importante perché inseriamo parecchie persone, iniziamo parecchi servizi, soprattutto destinati alla raccolta differenziata nelle strutture ricettive che offre la nostra città. Un'assunzione di un numero di persone importanti finalizzata al servizio di igiene ambientale, della raccolta differenziata presso gli alberghi, ma anche ai vari servizi di spazzamento e di igiene urbana che svolgiamo per conto di IRA. Ovviamente ci sono anche altri servizi, servizi di pulizia, di affissione di manifesti, eccetera, che visto la stagione estiva sono sempre in aumento e richiedono sempre più risorse per poterli speltare nel maniato modo possibile. Abbiamo quindi una rosa di attività che consentono tante tipologie di inserimenti lavorativi. Di quante occupati parliamo per l'estate 2017? Per l'estate 2017, considerando tutta la stagione che va circa da aprile a fine ottobre, abbiamo assunto circa 35-40 persone per un tempo determinato, per circa un periodo di 4-6 mesi, in cui con noi conoscono la cooperativa e gli insegniamo a svolgere i servizi estivi a cui noi dobbiamo far fronte. Quindi si tratta di una mole importante di lavoro, a cui partecipano anche chiaramente i lavoratori a tempo indeterminato, che lavorano qui in cooperativa da tanti anni, dentro i quali ci sono tante persone che appartengono alle categorie. Quanti sono in totale sui tempi indeterminati e quanti invece, per quanto riguarda quelli a tempo determinato, assunti quest'estate? Nel picco estivo sono coinvolte sia i tempi determinati che i tempi indeterminati, ovviamente i lavori di maggiore responsabilità e comunque che richiedono un'esperienza importante, le facciamo svolgere i tempi indeterminati. Le persone in totale a tempo determinato oggi in cooperativa sono circa una quarantina e a tempo indeterminato siamo circa una settantina. Come scopo principale anche dal nostro Statuto è l'inserimento di persone svantaggiate, inserimento in persone con cui hanno più problemi che altri, si trovano in una particolare difficoltà in un determinato momento. Anche nelle assunzioni estive abbiamo avuto un occhio di riguardo e un'attrazione maggiore a inserire questi tipi di persone e siamo arrivati a inserirne fino a quasi 25, quindi 25 persone a tempo determinato di persone svantaggiate e risidenti tutte nella nostra provincia. Ok, ti chiedo una cosa relativamente alla formazione. Qui in cooperativa per quanto riguarda sia la sicurezza e la qualità vengono investite tante ore nei confronti dei lavoratori sia a tempo determinato che a tempo indeterminato per quanto riguarda tutti gli elementi che riguardano queste due caratteristiche importanti che in qualche maniera caratterizzano la cooperativa da tantissimi anni. Come ti sembra che stia andando questo percorso di formazione ma soprattutto qual è secondo te la consapevolezza che hanno raggiunto i lavoratori della cooperativa nei confronti della sicurezza e della qualità che viene applicata? Se parliamo di sicurezza per un discorso generale capiamo bene che è un percorso che si fa perché comunque la sicurezza sul posto di lavoro a volte dagli addetti ai lavori è sempre vista con un occhio, con un'attenzione particolare. Ovviamente noi abbiamo trappeso questo percorso già da parecchi anni inserendo la qualità 9000, l'ISO 14000 e poi la 18001 la Formica ci tiene molto a fare in modo che tutte le persone che lavorano presso la cooperativa siano informate e formate per svolgere qualsiasi tipo di attività. Per questo noi cerchiamo di fare una formazione sempre di alto livello che coinvolga in modo pratico tutti i lavoratori e non sia solo teoria ma sia teoria da applicare nella pratica. Questo è realmente il segreto per portare una cooperativa, un'azienda a dei livelli di sicurezza soddisfacenti. Quindi parliamo di una grandissima risorsa in termini umani cioè dal punto di vista delle persone però la cooperativa da anni fa anche oculati investimenti e soprattutto investe ogni anno in attrezzature e mezzi. Quest'anno quali sono stati i nuovi investimenti che hanno contraddistinto questa voce del bilancio? La cooperativa ha sempre investito in nuove attrezzature anche per alleviare il peso che giornalmente hanno i nostri lavoratori a svolgere dei lavori molto ripetitivi e molto manuali. In particolare in questi ultimi decenni abbiamo investito molto nelle attrezzature di camion per la nettezza urbana sempre più evoluti e sempre più aggiornati con delle attrezzature che possono comunque alleggerire il lavoro giornaliero di ogni lavoratore. Sono stati fatti degli investimenti nel settore della manutenzione strade il settore dove lavoriamo da anni per vari enti dove è stato acquistato un camion che permette di non sollevare pesi importanti che poi a lungo andare, ripetitivi, possono danneggiare anche la salute dei lavoratori che ci lavorano. Quindi tanti investimenti, tante assunzioni che non è scontato trovare in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. Diciamo che la testimonianza del fatto che l'azienda Gode di Buona Salute è gestita anche in maniera molto attenta ed oculata e in un certo senso restituisce questa ricchezza al territorio in cui opera da anni. Sì, possiamo dire che comunque siamo una delle poche realtà che comunque si può permettere delle assunzioni così importanti nella stagione estiva. Sì, siamo ancora investiti nella crisi che non sappiamo quale sarà il suo fine ma ancora noi sentiamo e vediamo nel nostro territorio dei segnali che ci fanno dire che ancora la crisi non è passata talmente. Ovviamente con il nostro picco di lavoro estivo possiamo dare la possibilità a delle persone che sono rimaste senza lavoro di non promettergli un tempo indeterminato o un contratto annuale ma almeno un contratto che possa permettere a queste persone di cercare di rientrare nel mondo del lavoro anche se per pochi mesi. Questo penso che sia un valore aggiunto per la società e per la cittadinanza e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile.